Adesso vorrei lasciare la parola ad Alessandro Nicolò, che è il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria. Lo ringrazio. Sì, grazie. Prima di svolgere il mio intervento vorrei iniziare un saluto non rituale ma sentito a tutti i partecipanti a questa iniziativa significativa, importante, promossa dalla Regione Piemonte in concerto con il Comitato Resistenza. Una iniziativa che oggi mi vede impegnato in un contesto che mi per qualche aspetto emoziona perché quando si parla dei meridionali e del contributo dei meridionali mi fa riflettere sulle potenzialità delle risorse umane ed intellettuali che una parte dell'Italia è in grado di esprimere in un contesto positivo perché vedete a volte del mezzogiorno si esporta un'immagine negativa all'esterno e quel positivismo va capitalizzato e la storia spesso è stata vara, la critica storia, nel valorizzare l'impegno dei partigiani meridionali a sostegno di una causa di alti valori ispirati a quelli nobili e quindi di euguaglianza e di libertà. Io saluto cordialmente il Vicepresidente Placido che si è molto adoperato per questo evento e lo ringrazio per avermi partecipato a questo invito, consentirci a noi calabresi di poter dare il nostro contributo. Un saluto particolare alla senatrice Fedeli che qui oggi in rappresentanza del Parlamento una rappresentanza autorevole ad una manifestazione anche patrocinata dalla Presidenza della Repubblica quindi ci sono tutti gli ingredienti per affermare una pagina che rievoca la storia ma che possa essere una pagina di condivisione di quei valori di quei valori per i quali si batterono e combatterono i tanti meridionali. Io ritengo che questa pagina storica della resistenza e del contributo offerto dalle regioni meridionali per la liberazione del Paese dal nazifascismo siano punti di snodo per la nostra democrazia presupposti indispensabili quando si trattò subito dopo di elaborare la Carta Costituzionale per l'Italia che ne è venuta fuori. Un'Italia con vizi e virtù lo possiamo dire però un'Italia che ha avuto un progresso grazie, come diceva l'assessore del Comune di Torino grazie a quel contributo fornito dalle risorse umane provenienti dal Mezzogiorno. E essere qui in rappresentanza della mia regione una regione che ha sì tanti problemi sociali ma anche tantissime potenzialità su cui contare mi offre l'opportunità di rammentare seppur brevemente quindi il sacrificio di migliaia di giovani partiti dal sud Italia per dare un contributo decisivo alla resistenza e alla fondazione della nostra democrazia che dopo la nascita della Repubblica in Calabria e in altre parti del Mezzogiorno prese forma nelle lotte per la terra ingaggiata dai contadini contro il latifondo contro il latifondo ed in vista della riforma agraria che purtroppo non diede i risultati auspicati quei risultati sperati e provocò la piaga dell'emigrazione verso il nord ma anche in terre lontane. Io considero quindi prezioso questo evento perché ci offre lo spunto di fare tante riflessioni la riflessione sul sacrificio il sacrificio che costò la vita a tanti giovani ma soprattutto su vicende e tratti drammatiche del dopoguerra che hanno visto sud, centro e nord interagire efficacemente avendo in comune lo stesso orizzonte, quello della libertà e dell'uguaglianza. Tuttavia vorrei ricordare che dei 7.000 un migliaio erano calabresi che partirono da quella parte dell'Italia del profondo sud con una speranza la speranza di poter liberare il territorio che non era solo una parte dell'Italia ma era il territorio ideale quel territorio che poi formalmente divenne il paese il paese che noi tutti quanti auspichiamo possa sostanzialmente unire i nostri cittadini un'unità che non sia solo formale ma che sia anche sostanziale considerato che il divario tra nord e sud purtroppo ancora esiste un divario che si connota soprattutto sulla questione sociale sulla questione economica e ritengo che bisogna compiere molti sforzi e la classe politica dirigente non si può sottrarre rispetto ad un impegno che deve vederla impegnata deve vederla caratterizzante per soprattutto questioni culturali dei calabresi vorrei ricordare Francesco Italo Francesco Italo Bruno ed il padre Oreste Rossi furono comandanti di alcune brigate ma ricordo tra le tante figure di primo piano Salvatore Rizzo di Campora di Amantea Salvatore Carrozza di Taurianova Francesco Giugno di Natile Nuovo Rocco Marfi di Laureana di Borrello Bruno Geniale e Vincenzo Enrico di Cosenza furono protagonisti appassionati che con un forte spirito di sacrificio hanno lasciato il segno nella nostra storia di questo Paese della cui unità occorre essere fieri per la cui unità occorre quotidianamente prodigarsi anche in ricordo della memoria di chi per la nostra democrazia ha dato la vita grazie presidente vorrei concludere chiuso l'intervento dicendo che questo è un sacrificio che non deve essere disperso il patrimonio dell'unità di chi con il loro esempio ha messo in discussione i propri affetti e quindi sacrificato la propria vita il sacrificio per la democrazia che insieme agli eventi hanno portato all'unità ed in seguito al baro della carta costituzionale occorre che siano nella memoria e nella coscienza del Paese e delle nuove generazioni fonte di coesione sociale come base essenziale di ogni avanzamento tanto a nord che a sud in un sempre più ampio contesto europeo dentro un'Europa di cui vogliamo essere parte vogliamo essere parte senatrice fedele vogliamo essere parte a condizione che l'Europa recepisca la storia di ciascuno dei Paesi aderenti che sia l'Europa dei popoli e non l'Europa della nomenclatura e delle tecnocrazie grazie